Ebbene si, vaiù, l'iscrizione, l'iscrizione, non chiedo altro, vuoi riuscire a farci di che cazzo va lì dopo Detto questo ci poteva mancare, all'improvviso, così, il giro di 10 minuti, 10 minuti ma ci ho fatto un giro in coppa Youtube Mi sono fatto un giro su Youtube Si parla addirittura di Mendes che ha proposto Ronaldo alla Juve di nuovo a Domiti Dove lo metti? Si, addirittura Monblano ha proposto Neymar alla Juventus in presidio, vaiù Ma io capisco che c'è crisi, ma quanti cazzo di nomi state facendo Ma quanti cavolo, non mi viene un nervo, ma quanti cazzo di nomi state facendo su questo Youtube Ma basta, ma basta, basta Ma per l'amor del cielo può anche darsi che sia vero, per l'amor di Dio che è stato proposto Giustamente è una proposta, visto che è Neymar Ma voi avete capito quando prende l'ingaggio Neymar Ma secondo te, a Juventus si è andato a levare a Ronaldo per questo fatto qua Sta cercando di togliersi da più Ramsey Arthur Si va a incastrare di nuovo sull'ingaggio Ma che cazzo ti dite su questi social? Che cazzo ti dite su questi social? Ma la vogliamo smettere o no? Che qua stiamo infermendo già per Di Maria che già ci stai mettendo troppo, frate Vieni, non mi fai venire a Torino che ti chiamo una capata a mucca, Di Maria Vedi di non farmi venire a Torino che ti chiamo una cazzotta a mucca, ti stanno Ti stanno No, perché Di Maria La signora Di Maria verrà a Torino per vedere la città Oh, amunezza Ma che ci vuoi a mettere una firma? Forse non ti è chiaro Signor Di Maria Perché così da ci chiamare signor Di Maria Tu o vieni a Juventus o sarai un calciatore finito, finito Perché quella è la proposta, la miglior proposta che c'hai è a Juventus Stop Vuoi andare a Barcellona? O Barcellona sta rovinato economicamente, è rovinato Quindi la migliore proposta che c'hai è la Juventus Ma è una stronzata questa è il Neymar, Ronaldo Non si sta capendo nulla, nulla, nulla Ma figura di San Ronaldo, addirittura si parla della Roma Della Roma, della Roma Ronaldo potrebbe finire la Roma Figura di San Ronaldo, piglianata a voto a tutto Scenata a voto a Roma, che cazzo Per fa che? Per si fa che cosa? La Conference League Ma ti voglio bene Ma facitino poche femmine serie Ma facitino poche femmine serie Fate un po' le donne serie Detto questo Io sta a Juventus e non sto capendo nulla Guarda Oggi è il 20 giugno, domani è il 21 Non vedo l'ora che inizia sto calciomercato Anzi non vedo l'ora che esce un calendario Che tra l'altro ragazzi mi dispiace Non posso seguire perché Lavoro dalle otto e mezza alle due e mezza Lavoro Quindi ahimè è stato posticipato alle dodici di mezzogiorno Il calendario Hai capito? Alle due perché teni i programmi Stai scendo qua teni i programmi E non ho posto il calendario Alle dodici quando la gente fatica Giustamente Ma un applauso Vabbè lasciamo Mi scuso già Faremo una live E lo guarderò con voi Questo calendario 2022-23 O 23-24 Non mi ricordo manco Perché qua il tempo si è fermato Si è fermato tutte cose Si è fermato tutte cose Iscriviti al canale Lascia un mi piace E fino alla fine Sempre Forza Juventus Sempre